Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui con un nuovissimo video Io sono Cedrax e oggi siamo qui su carriera giocatore della nostra leggenda Ok, siamo qui con la leggenda del nostro Chris Kras ragazzi Il nostro giocatore, la nostra leggenda, il nostro pupillo, eccolo qui Chris Kras, un dio ragazzi, 17 anni, un talento puro, ATT, attaccante serio, purissimo E non vede l'ora di giocare con la maglia del Chelsea perché il Chelsea lo ha chiamato questo giovane Questo bomber, questo fenomeno, l'ha chiamato e ha detto no, devi venire qui, qui proprio nel Chelsea Eccolo qui, Chris Kras, Kras con la numero 7 perché lui è molto ma molto No, ora no, ora è un 69 però diventerà una leggenda, una leggenda più di Ronaldo Chi è Ronaldo? Chi è Ronaldo? Nessuno a confronto del nostro Chris Kras Prima cosa, volevo, volevo, volevo andare un secondo a modificare qui Che andiamo a mettere un pochino di fisico, di sicuro, lo andiamo a mettere Avevamo altri 5 punti e andrei a fare il Dreamling Ok E poi il tiro Allora vediamo, tiro dalla distanza e finalizzazione, aumenta la probabilità di battere il portiere Con un tiro scioccati dall'interno dell'area di rigore Allora, questo qua anche mi piace da mettere Però volevo vedere i rigori Devo andare a battere ma di sicuro non me li faranno battere Allora sarà per la prossima volta Vediamo se riesco a fare o devo fare per forza gli allenamenti Non devo fare gli allenamenti Credo che ci farà Ecco qua, lo sapevo ragazzi, la nuova cosa Che hanno messo e che possiamo entrare nel secondo tempo Però come vedete ci hanno messo alla destra Noi siamo attaccanti puri, non siamo da alla destra Vabbè, è la sua prima partita, ci può stare E allora ragazzi andiamo subito alla partita Gioca con Crash Esce il numero 22, Zijek Ed entra il nostro Crash Crash ragazzi Il nostro fenomeno Oddio cos'è? Allora, tieni, vabbè, valutazione 7,1 Ok, otteniamo la versione 6 di cross E fornition assist Difficile Sono tutti No, allora, queste due sono difficili Sia questo qua cross E sia l'altro dell'assist Vabbè, l'assist Aspettate, io tiro No, Crash Niente, niente Attenzione Passiamo in alla destra Perché siamo veramente spacciati Deve Deve Splendere Attenzione, attenzione Crash 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 Fornisce l'assist Attenzione Ancora Crash 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 Il tiro a giro Mamma mia Crash Già stava iniziando a fare il suo primo gol In questa Premier League ragazzi Perché c'è Merita Merita Crash Crash Ragazzi Attenzione Il passaggio Per Crash 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 Sbaglia Sbaglia Il suo primo errore Crash Attenzione Passaggio bellissimo Ci può stare Tranquillamente Ancora Crash Con l'1-2 Attenzione Ragazzi È un po' difficile Perché Ho messo la modalità campione E poi Il mio giocatore Che non corre Ovvio Attenzione Crash Se vuole far vedere Crash Nessuno lo pensi Attenzione Bravo Passolo a me A Crash Non andare troppo avanti Attenzione Raga È difficile È difficile Non è facile Perché C'è Il nostro giocatore È un 69 Che ci può stare Però Deve fare ancora Tanta Tanta Di quella strada Per essere Una leggenda Un icon Attenzione Ancora per Crash La bomba Di Crash No Crash Crash Purtroppo Non ce la fa E va bene Ragazzi Questa era La prima partita Di Crash Crash Eccolo qui Crash Crash Mamma mia Grande giocatore Grande fenomeno Può ancora crescere Crash Crash Dai ragazzi La leggenda di Crash Crash Ci può stare Ci può stare Abbiamo preso A Anche in questa qua Livello 2 Più 3 di abilità Va benissimo Prestazioni recenti Le tue prestazioni Nell'ultimo periodo Hanno lasciato Molto desiderare E va bene Cioè Ragazzi Mi hanno fatto entrare In Dieci minuti Ho giocato Dieci minuti Di partita Ditemi voi Cosa posso mai fare Niente È impossibile Non sono un fenomeno Siamo aumentati di overhaul Prossima partita Per Crash Crash Contro Il Real Madrid Ragazzi Bella partita Tosta Ma lo andremo a fare Subito Subito Entriamo Ragazzi Stiamo perdendo 2 a 0 Entriamo al 79 Sempre Dieci minuti Ci danno Perché Ovvio È la nostra prima partita Ma non fa niente Ecco qui che esce Lukaku Per far spazio A Chris Grass La vera leggenda Giovanissima Che ha tantissimo Di potenziale Esegui due tiri In porta Ok lo posso fare Questo qua è facile Poi Mantieni una percentuale Di dribbling Riusciti almeno Nel 35% Vabbè Questi qua Sembrano facili Però in dieci minuti Ragazzi Non è facile Però in dieci minuti Intendono il gioco Allora Chris Grass Attenzione Palla e mezzo Ci deve passare La palla Perfettamente Chris Grass Ancora Chris Andiamo a passare dietro Perché non avevamo Proprio spazio Raga Questa è giocata Non mi piacciono Non mi piacciono Attenzione Cantè 1-2 Su Zijek E raga Mi ha bloccato Ma mi blocca No Ma mi blocca Non mi può bloccare Chris Grass Chris Grass Non sa cosa fare E mi bloccano Il tiro Chris Marò Che gol Gol Del Chelsea In 5 minuti Diciamo 6 L'unico Possibilità Eccolo qua Cantè La passa per Chris Grass Chris E dai Chris Però corri Mamma mia La corsa Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Eh vabbè Attenzione Real Madrid Bravo E finisce la partita 2-1 Real Madrid Chelsea Ragazzi Ragazzi Soddisfazioni Veramente Veramente Grandi Con Chris Grass La leggenda Diciamo Ancora no Però Diventerà Una leggenda Parliamo anche Con Davis Il terzino Destro Del Chelsea Super super Incazzato Lo so ragazzi Ma è difficile In 10 minuti Fare Quelle missioni Ragazzi ve lo dico io Siamo veramente Unguaiati Allora ragazzi Prossima partita Contro il Marsiglia Non vedo l'ora Entriamo contro Al posto di Lukaku Sempre 10 minuti Tuchel Ci fa giocare Ma è difficile Ragazzi Fare gli obiettivi Di Tuchel Ne In 10 minuti È veramente È veramente Difficile Sostituzione Esce Lukaku Entra Il nostro Chris Grass Allora 7 Ottiene una percentuale Di realizzazione Di almeno 50% È difficile Dribbling Possiamo un pochino Aumentare Sul dribbling Ci sta Però È difficile Perché il nostro Giocatore Ragazzi abbiamo Sì sicuro Di più o meno Stiamo contro Aspetta Non mi ricordo Non mi ricordo Contro chi è Ah sì Il Marsiglia È veramente Difficile Però ci possiamo Credere Attenzione 1 2 Subito Bravissimi Vai Vai che T'ho fatto Un passaggio Che è D'addio Ma Traversa Ah Che traversa Ragazzi Che traversa Attenzione La corsa Ecco che Arriva Di velocità Di propria Potenza Mamma mia Bravo Chris 1 2 Mamma mia Chris Chris No Lo dovevi vedere Su Chris Crass Ragazzi Potevamo fare Il nostro Primo Gol Però Purtroppo Non ci è Capitato Attenzione 1 2 Chris Crass Lo vede Attenzione Ancora 1 2 Uh Bello 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 Dai Guardatelo La faccio passare È l'unica Soluzione Attenzione Chris Crass 1 2 No No Ragazzi È difficile È veramente Difficile Ma Veramente Difficile Ecco qui Chelsea FC Chelsea Ragazzi Guardateli Tutti felici Tutti felici Per la vittoria Con Chris Crass Dai Chris Crass Con Giorginio Ragazzi Andiamo A festeggiare Con Giorginio Grande Chris Grande Chris 6,7 Dai ragazzi Piano piano Stiamo aumentando Non riusciamo a fare niente Tuchel Ancora Super Mega Incazzato Oh Finale Contro il Napoli Ragazzi Contro la mia squadra Del cuore Partita Veramente Veramente Difficile Tuchel Potrebbe affidarsi Ai giovani In trofeo Dei campioni C'è Vuole dare fiducia A Chris Crass Ma Credo che Non la riusciamo A giocare Sì Infatti La simuleremo Perché tanto Non ce la farà giocare Perché è super Incazzato con noi Noi non possiamo Fare gli allenamenti Abbiamo vinto Goal di Werner 1-0 Mi dispiace Per il Napoli Però Abbiamo Fatto Un goal Il Chelsea Può ancora vincere In finale Contro il Real Madrid Di nuovo Possiamo 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 Livello 4 Perfetto Ok Ok ragazzi Il video può finire Qui Lo so Lo so La finale La finale Ragazzi La vedrete Nel prossimo video Che sarà domani Sempre alle 3 Mi raccomando Andatelo a vedere Perché succederà Una cosa Veramente incredibile Con la finale Con il Chelsea Di sicuro Entreremo Negli ultimi 10 minuti Ma spero Spero ragazzi Che faremo Un goal Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo Un prossimo video Qui con il vostro Zedrax Alla prossima Bella ragazzi Ciao